Ciao ragazze, oggi vorrei fare il video per rispondere al concorso lanciato da Dolce B da Virna, e per esempio ci chiedeva di mostrare un prodotto che ci ha cambiato la vita poteva essere qualsiasi cosa, uno shampoo, un prodotto per la pelle e diciamo il prodotto che secondo me ha migliorato tantissimo la mia pelle anche se non sembrerebbe, è questo qui, il letto di esercente della niva di Sajjang e quindi è un letto di detergente idratante, detergente idrata per una pelle morbida e fresca con estratti di lodo e vitamine, è adatto a tutti i tipi di pelle e io penso di essere arrivata alla conclusione che forse i prodotti adatti a tutti i tipi di pelle mi rendono meno grassa la pelle, perché ho visto che sono i prodotti appunto per la pelle grassa e niente, non ottengo nessun miglioramento, quindi invece con questo per esempio mi sono trovata benissimo strucca, lascia la pelle morbidissima, quando andate a risciacquare sentite proprio la pelle soffice e poi ha una bella confezione grande, il prezzo non lo so perché me l'ha comprato mia madre quindi non ne ho la più punita di tempo quanto costa ma penso che non arrivi a 5 euro e appunto c'è scritto che purifica la pelle in modo efficace e delicato e sono d'accordissimo e appunto rimuove il trucco residuo, l'impurità rispettando il naturale livello di traduzione della pelle grazie agli strati di lodo e della vitamina appunto è delicatissimo, infatti può essere utilizzato anche senza problemi per gli occhi, per truccare gli occhi e mi strucca benissimo, ha ben dischetti con i lattondi e rimuove tutto la pelle è veramente, sentite un'altra pelle? è buonissimo, si mi piace un sacco e quindi questo qui è il prodotto, diciamo il mio prodotto preferito e infatti sta qua, ho paura che finisce, devo andare a ricomprare, spero di ritrovarlo e contiene 200 ml, quindi è abbastanza grande e niente, questo è il mio prodotto e alla prossima, un bacio!